La 1 to 1 Academy è una nuova iniziativa che stiamo promuovendo, questo è il primo camp con la prospettiva poi di poter organizzare un discorso sulla prossima stagione sportiva che parte a settembre, quindi è un'idea che stavamo covando da tempo, poi per merito e devo essere onesto, di Spartaco Cordella e di Felice Mancini abbiamo intensificato questo progetto e siamo qui adesso con 70 bambini che praticano il gioco del calcio. Perché è semplice? Perché abbiamo degli istruttori eccellenti che operano nella Pescara Calcio anche da anni e anni ormai e poi perché per ogni gruppo di lavoro di 3, 4, 5 bambini ci sono uno e due istruttori quindi è una qualità a nostro avviso alta. Nella 1 to 1 noi il principio fondamentale è quello di ripetere il gesto tecnico fondamentale del calcio e va a completarsi con il lavoro che noi facciamo durante l'anno, di fatti questa è un'iniziativa che deve avere la possibilità avendo più tecnici che si dedicano a più ragazzi di completare il lavoro che durante l'anno verrà fatto dalle società. Quindi diciamo che è un servizio che noi mettiamo a fuori di questi ragazzi perché per migliorare il gesto tecnico io sono convinto che dove possiamo ripetere tante volte come si fa l'errore, come bisogna poi correggerlo dargli anche un input positivo perché il ragazzo deve avere il piacere di vedere i suoi miglioramenti ecco questa è la 1 to 1 dove noi cerchiamo di lavorare sulla tecnica individuale e possiamo farlo con tanti istruttori e tanti ragazzi insieme il rapporto istruttore ragazzi è molto di meno rispetto a quello che si fa durante l'anno l'idea è quella di dare una mano a queste società dilettantissime ma anche ai nostri ragazzi di migliorarli nel gesto tecnico, alla fine dell'anno sicuramente ci saranno dei miglioramenti l'idea è quella di un campus che siamo contentissimi, abbiamo dovuto bloccare le iscrizioni a 60 perché non avevamo tecnici, siamo 12-13 tecnici l'iniziativa è quella di poterlo fare anche tutto l'anno per poter migliorare questi ragazzi perché le ore devono essere tante per divertirsi lavora con uno scambio di competenze, con tutta una serie di attività che poi vengono svolte durante tutta la stagione calcistica con dei momenti di incontro e di confronto sia per i tecnici, perché a noi ci preme anche formare eventualmente anche i tecnici di altre società affinché poi applicano le metodologie nostre la mission della 1 to 1 Academy è offrire un'opportunità di crescita e di miglioramento ai ragazzi sia sotto il profilo tecnico che coordinativo, a tutti i ragazzi grazie a tutti grazie a tutti